leggeremo da geremia capitolo 4 leggeremo i primi quattro versi di questo capitolo e poi chiaramente faremo considerazioni anche di altri passi della parola del signore per comprendere appieno quello che è il cuore del credente e cosa dio desideri dal credente che si rivolge a lui volendo compiere il suo volere geremia 4 dal verso primo così è scritto israele se tu torni dice il signore se tu torni da me se togli dalla mia presenza le tue abominazioni se non vai più vagando qua e là se giuri per il signore che vive con verità con rettitudine con giustizia allora le nazioni saranno benedette in lui e in lui si glorieranno poiché così parla il signore alla gente di giuda e di gelusalemme dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine circoncidetevi per il signore circoncidete i vostri cuori uomini di giuda e abitanti di gerusalemme affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infiammi al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni ora geremia predica in un periodo della storia di giuda e di gerusalemme come sapete assai difficile perché perché il popolo di giuda e di gerusalemme aveva ricevuto da parte di dio ogni benedizione infatti aveva fatto di questo piccolo gregge cresciuto schiavo in egitto il suo popolo la nazione eletta il popolo in mezzo al quale dio si manifestava un popolo che aveva chiamato ad essere un popolo appartato per lui un popolo che doveva stringersi in un rapporto d'amore profondo con dio per poter manifestare a tutte le nazioni chi era l'iddio creatore che il peccato aveva allontanato dal cuore degli uomini e lo scopo di israele era quello di manifestare dunque al mondo la possibilità di vivere in una comunione reale con dio e in una comunione di profondo amore con dio camminando con lui e manifestando al mondo che dio non è un dio lontano ma un dio vicino a tutti coloro che lo invocano infatti questo fu lo scopo della gloriosa liberazione dall'egitto manifestare al mondo la gloria della potenza di dio l'iddio che allora era quasi sconosciuto fece tremare tutte le nazioni quando esse udirono ciò che egli stava compiendo per il suo popolo in egitto e poi durante il pellegrinaggio del deserto ma lo scopo di israele doveva essere quello di camminare unito a dio di camminare con dio di essere il popolo che manifestava al mondo che si può conoscere dio e camminare in comunione reale con lui e invece e invece il popolo si lasciò sviare dal proprio cuore e si allontanò e la storia di israele in questo caso di giuda fu segnata da alti e bassi da ribellioni allontanamenti idolatria e peccato tradimento così lo definisce il signore adulterio e e gesù era colui che avrebbe poi portato in israele la redenzione ma qui siamo ancora lontani dalla manifestazione di gesù che pure fu reietto da israele qui il popolo viene richiamato da dio viene richiamato dal signore e il popolo però non dà ascolto alla voce di dio e continua ad essere lontano ma è una lontananza strana quella del popolo di israele è una lontananza che non riconosce la propria condizione cosa intendo dire intendo dire questo che il popolo vede il peccato nel cuore del suo popolo il signore vede l'allontanamento che israele ha da lui vede che il suo cuore si volge altrove vede che il peccato vive in lui ma il popolo non sa vedere questo in se stesso il popolo non riconosce questo il popolo è cieco alla sua condizione vive nell'idolatria vive nella menzogna vive nella trasgressione vive nel peccato ma dice di se stesso io sono il popolo di dio ed è questo che il signore descrive in questo passo e comincia dicendo israele torna perché tu sei lontano torna a me torna torna perché un tempo eri vicino un tempo il tuo cuore mi amava ma ora c'è freddezza c'è distacco vi è mai successo di avere una relazione affettiva con qualcuno che poi si allontana da voi e voi glielo fate notare gli dice perché ti sei allontanato da me e la risposta sconcertante è ma no perché dici così non è così no assolutamente ti sbagli ma voi sapete che il suo cuore è stato catturato da altro e vedete la vicinanza con dio è una vicinanza di amore di passione di dedizione non è una vicinanza fisica cosa intendo dire noi siamo qui radunati e al passante che attraversa la strada e vede questo popolo radunato dice ecco questo è un popolo che cerca il signore sono tutti radunati per celebrare il signore del resto non può dire altro perché non conosce chi siamo né conosce i nostri cuori né conosce ciò che c'è nei nostri cuori adesso ma dio che dimora qui in mezzo a noi non non si limita a guardare dove siamo fisicamente ma dov'è il nostro cuore dove sono i nostri pensieri dove si volgono i nostri desideri e dove è il nostro cuore cosa amiamo cosa cerchiamo cosa bramiamo e mentre noi stiamo qui cantando e celebrando le lodi al signore chi passa vede le nostre labbra celebrare le cose grandi di dio ma il signore sa dove sono i nostri pensieri sa dove si volge il nostro cuore mentre cantiamo poiché non è ciò che dicono le labbra che ha valore dinanzi a lui ma è ciò che dice il cuore ed ecco perché il signore dice al suo popolo torna perché la tua mente è lontana il tuo cuore è lontano la tua passione è lontana i tuoi desideri sono lontani da me tu hai volto le tue attenzioni hai volto i tuoi desideri a ciò che non sono io ed è per questo che richiama perché dio vuole realizzare con noi un rapporto d'amore e non una fredda manifestazione di liturgia religiosa dio della liturgia religiosa non se ne fa nulla dio si rivolge a noi e ci dice dammi il tuo cuore questo è scritto nella parola di dio e allora e allora al verso 3 comincia a dire qualcosa di importante e dice dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine ora se voi tornate con la mente alla parabola del seminatore voi potete ben comprendere questo passo e capire perfettamente quello che il signore intende dire il seminatore usci prese il suo seme e lo gettò una parte di quel seme cadde sulla strada e subito vennero gli uccelli del cielo e la portarono via un'altra parte cadde sulle pietre sulla roccia subito spuntò ma non avendo terreno fu riarso e morì e non portò frutto un'altra parte cadde su un terreno invece che poteva ospitarlo e la fece crescere la pianta ma il problema il problema stava nel fatto che assieme al seme c'erano le spine e le spine soffocarono il seme e quindi non crebbe cioè la parola di dio non portò alcun frutto badate il terreno riceveva la parola di dio ma non poteva portare frutto perché perché c'era il terreno duro la strada perché c'era il le pietre perché c'erano le spine ma una parte grazie a dio cadde nel terreno buono e il terreno buono è il terreno dissodato cioè preparato per ricevere è quello che porta frutto e allora cos'è che rimprovera dio attraverso il suo profeta rimprovera il fatto che il popolo non si prepara a ricevere la sua parola perché ha il cuore impegnato da altro il problema è questo il suo cuore è impegnato da altro che cosa rappresentano le pietre le pietre rappresentano il peccato che ancora sta lì a rendere infruttuoso il terreno e se vogliamo seminare e ci sono persone che qua mi possono insegnare prima bisogna togliere le pietre dal terreno bisogna dissodarlo ho avuto la gioia qualche anno fa di visitare la puglia una bellissima regione sono rimasto affascinato da quella regione ma una cosa mi ha colpito in maniera straordinaria abbiamo attraversato i campi le piantagioni di ulivo meravigliose uniche e la caratteristica è che nei terreni almeno che ho visitato io erano terreni estremamente pietrosi piene di pietre e ho pensato al lavoro che i contadini hanno fatto perché ci sono chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri a perdita d'occhio di recinti fatti con le pietre tolte dai campi è impressionante a parte l'ordine ma è impressionante il lavoro che c'è dietro tutte le pietre dei terreni sono state tolte per ospitare la semina ma la cosa gloriosa è che ciò che era negativo cioè la pietra nel campo è diventata utile perché sono stati fatti dei recinti di protezione che proteggono il campo ecco questo è il primo passo che dio chiede al suo popolo non può coesistere la semina con le pietre non può coesistere la parola di dio con il peccato poiché il primo passo che la parola di dio chiede a te e a me è di rimuovere il peccato dal nostro cuore non potrà mai portare frutto la parola di dio e il frutto è un frutto eterno un frutto a vita eterna se il peccato dimora con noi no togli quel peccato da te toglilo da te toglilo perché non può coesistere perché se tu lasci le pietre nel tuo cuore queste uccideranno il seme della parola di dio non c'è altro modo di vivere cristo non potrai mai far convivere il peccato è la parola di dio e bada bada attentamente perché la parola di dio ha lo scopo di darti vita eterna e se tu lasci nel tuo cuore ciò che uccide la parola di dio tu uccidi te stesso eternamente ma quelle pietre invece in puglia sono state prese ammucchiate con un ordine straordinario per costruire dei muri a secco che servissero da protezione o è proprio così quando il peccato è tolto dal nostro cuore noi riceviamo una protezione gloriosa da parte di dio che custodisce ciò che è purificato per accogliere il suo verbo la sua parola ma c'è un altro aspetto e qui qui dobbiamo fare una bella attenzione perché tu puoi anche togliere tutte le pietre dal campo ma un campo ben pulito dalle pietre non ospita solo il buon seme ma può ospitare anche le piante infestanti quindi una volta che tu hai tolto il peccato devi fare attenzione a dove si volge poi il tuo cuore nella parabola del seminatore gesù ci spiega che le piante infestanti le spine i rovi sono le sollecitudini mondane cioè sono le attrattive di questo mondo ora qui c'è un grande dolore nel cuore di dio perché perché dio ha mandato dal cielo suo figlio e gesù disse io sono la via la verità e la è la vita non esiste niente di più prezioso di più bello di più glorioso del nostro signore gesù cristo non c'è un tesoro nel mondo che possa non dico eguagliare ma neanche lontanamente somigliare al nostro signore gesù perché in lui in lui c'è l'amore in lui c'è la provvidenza in lui c'è il perdono in lui c'è la grazia in lui c'è la vita eterna in lui c'è la santità in lui c'è la giustizia in lui c'è tutto ciò che è glorioso bello amabile tutto racchiude il nostro signore gesù cristo ed egli lo ha dato a noi perché fosse il nostro signore il nostro salvatore il nostro fratello maggiore la nostra gloria la nostra speranza di gloria la vita eterna il nostro perdono la nostra provvidenza la nostra grazia e pensate che cosa prova il padre quando vede che coloro ai quali ha mandato cristo distolgono lo sguardo da lui per lasciarsi affascinare dalle cose legate al tempo e a questo mondo perché le spine questo sono la parola di dio ti viene a presentare cristo nella sua bellezza nella sua gloria e nei suoi tesori eterni ma questa parola che ti porta la conoscenza e la gloria di dio viene soffocata da cosa da cosa da cosa dalle cose di questo mondo quanto è triste quando dio vede il popolo rallegrarsi di cose futili e non riesce a trovare la gioia in lui io sono venuto dice gesù affinché abbiate vita e vita ad esuberanza io vi ho dette queste cose affinché la vostra gioia sia compiuta completa vedete fratelli a chi si dedica a queste cose dio dona una gioia ineffabile perché da la conoscenza di dio e la vita eterna ma il popolo aveva volto il suo sguardo altrove e qui giungiamo al punto cruciale dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine abbiamo visto togliere le pietre abbiamo visto la necessità di non lasciare crescere le spine ma ora c'è l'azione pratica del dissodare quando un terreno non è mai stato coltivato o per lungo tempo non lo è stato il terreno si fa duro e c'è necessità di appunto dissodarlo non farsi far sì che non sia più duro sodo e qui c'è l'aspetto più importante spero di cuore di riuscire a trasmettere poco più avanti nel capitolo 5 al verso 5 dio rimprovera al popolo di rifiutare il gioco ora sapete che questo è tanto interessante ora noi usiamo strumenti agricoli grazie a dio che ci permettono di dissodare il terreno più agevolmente attraverso i trattori attraverso aratri particolari che penetrano a fondo nel nel terreno ma 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 c'è un aspetto che invece deve colpirci e farci riflettere per dissodare il terreno occorre almeno al tempo lontano occorrevano dei buoi occorreva un particolare aratro che scendeva a fondo ma occorreva anche un elemento senza il quale non si poteva legare l'aratro al bue ed era appunto il gioco il gioco aveva questa funzione quando veniva indossato dal bue il bue sapeva che cominciava il lavoro e il bue non si muoveva dove egli voleva ma dove il contadino lo guidava la caratteristica del bue è la mansuetudine ora la mansuetudine è l'attitudine a lasciarsi guidare e a ricevere gli ordini con umiltà la non reazione ricordate cosa disse gesù in matteo 11 dice così venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco e imparate da me perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre e prosegue poiché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero io dice gesù sono mansueto ed umile di cuore sta parlando del gioco da tenere sulle spalle e dopo aver detto prendete su di voi il mio gioco dice subito io sono mansueto e sta dicendo due verità che sono strettamente connesse dio ha bisogno che tu indossi indossi il suo gioco noi fissiamo sempre l'attenzione su questo aspetto venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliate io darò riposo alle anime vostre punto sì questa è una verità che io propongo nelle mie predicazioni continuamente perché è così solo in gesù c'è la pace solo in lui c'è il riposo solo in lui troviamo la vita ma l'affermazione è strettamente legata a quanto segue e non può essere isolata dal contesto dopo aver detto venite a me perché io vi darò riposo se siete stanchi e affaticati poi prosegue ed è un tutt'uno non si può separare le due cose voi che venite a me ai quali io do riposo però dovete prendere il gioco è dolce il carico è leggero ma lo dovete prendere ora questo è l'aspetto più importante per noi cristiani se uno vuole venire dietro a me rinunci a se stesso prenda la sua croce e mi segua il gioco altro non è che il segno della resa totale a Dio tu non puoi dissodare il tuo campo né puoi sperare che la parola di Dio porti frutto nella tua vita se non indossi il gioco del Signore perché perché la tua vita non è più tua la vita che Cristo visse era sua era sua l'aveva donata interamente al Padre io sono venuto per fare non la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato questo è il senso ecco tu mi hai dato un corpo per fare la tua volontà così recita un salmo allora qual è il punto il punto è che il problema di Giuda e di Gerusalemme in questo tempo era che non aveva più il gioco del Signore infatti nel capitolo 5 al verso 5 vi dicevo Dio rimprovera il suo popolo proprio di questo che non accetta il gioco ora fratelli se siamo cristiani lo siamo perché abbiamo il gioco dell'eterno su di noi se no possiamo dirci cristiani quanto vogliamo ma il nostro cuore non sarà mai dissodato per portare frutto perché perché Dio con la sua parola ci guida dove Egli vuole il segno del servizio cioè il gioco sulle spalle che trascina l'aratro per preparare il terreno e portare frutto implica che la tua volontà è piegata a quella di Dio che tu ti accosti a Dio per dire Signore cosa vuoi che io faccia ecco il mio dorso lega intorno ad esso il tuo gioco perché io voglio portare frutto non voglio vivere secondo le spine cioè i desideri del mio cuore non voglio più lasciare le pietre nel mio cuore cioè il peccato ma questo non basta io devo riconoscere che la mia vita non è più mia io devo vivere come gli angeli nel cielo padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra e sei tu e sono io che dobbiamo compiere la volontà di Dio come gli angeli del cielo ora ponete mente all'eterno sul suo trono e alle schiere degli angeli che gli sono intorno cosa fanno quelle schiere degli angeli rimasti fedeli se non compiere appieno la sua volontà sono il suo esercito egli è il Dio degli eserciti no? e hanno un pensiero comune essi gli angeli svolgono la volontà del padre perché amano la volontà del padre poiché si sono schierati con il padre perché vogliono compiere la volontà del padre perché il padre rappresenta la loro vita la loro gioia il loro tutto e sono schierati come il suo esercito pronto ad andare dove egli vuole infatti la parola di Dio li chiama i ministri cioè i servitori che servono anche alla causa dell'Evangelo a noi e noi come siamo? mentre viviamo la nostra vita qui ogni giorno siamo l'esercito disposto a compiere il volere del padre siamo schierati come un unico corpo e ci studiamo di fare il volere del padre diciamo al Signore metti il tuo gioco su di me perché voglio compiere l'opera tua per portare frutto è questo lo scopo della nostra vita o siamo dinanzi al trono di Dio per dire Signore dammi dammi affinché i rovi e le spine crescano abbondanti nella mia vita ed io possa godere dei desideri del mio cuore che però soffocano l'opera tua cos'è che desideri? qual è l'oggetto dei tuoi desideri? dove è volto il tuo cuore? verso le pietre del campo? verso le spine del campo? o verso l'Eterno? che ha portato su di sé il pesante gioco della croce affinché fosse tolto dalle tue spalle quel giudizio eterno che ti avrebbe condannato egli ti dice non è quello il peso che devi portare prendi il mio gioco prendi l'obbedienza alla mia parola lasciati guidare dove io voglio e non dove tu vuoi lasciati guidare da me lasciati guidare da me dillo ogni mattina che il giorno che io ti dono tu lo vivi per me mettiti in cuore questo affinché io ti conduca laddove il frutto è abbondante molti di noi si studiano di togliere le pietre molti di noi si studiano di tenere pulito il cuore dalle spine ma pochi tra noi chiedono a Dio quel gioco che è il segno assoluto della nostra appartenenza a Lui di chi sei tu? di chi sei tu? di chi? sei di Cristo? mostrami il gioco allora mostrami il gioco della tua obbedienza mostrami il gioco della tua appartenenza mostrami che ogni giorno attraverso quel gioco tu fai morire te stesso per compiere il volere di Dio non basta uno slogan e dire io appartengo a Cristo mostriamo a Cristo lo strumento della nostra obbedienza assoluta mostriamo mostriamo a Cristo il suo gioco non lo abbiamo deposto non lo teniamo sul comodino lo teniamo intorno a noi sulle nostre spalle quel gioco che dice al Signore conducimi dove tu mi vuoi non ha importanza se ogni mio desiderio viene infranto se ogni mio obiettivo viene spezzato io non vivo per i miei obiettivi io vivo per i tuoi obiettivi poiché siamo giunti a questa conclusione che uno morì per tutti affinché quelli che vivono attraverso la sua morte non vivano più per se stessi ma per colui che è morto per loro ed è questo il senso che dovrebbe permeare ogni nostra preghiera Signore prima di piegare le mie ginocchia in preghiera io indosso il gioco perché mi ricorda che devo pregare per compiere il tuo volere che il cuore delle mie preghiere il cuore dell'indirizzo della mia vita sta nel compiere la tua volontà per questo tu m'hai acquistato e a questo io mi sono donato per fare il tuo volere perché riconosco che non appartengo più a me stesso ma a Dio fratelli Isaia 43 dice non temere perché io ti ho riscattato ti ho chiamato per nome ma prosegue dicendo tu sei mio e in queste parole in queste tre parole c'è la gloria eterna che Cristo indirizza la nostra vita ma c'è anche l'obbedienza eterna e perfetta che noi dobbiamo indirizzare a Cristo tu sei mio quindi io ti appartengo e sono sicuro per l'eternità e per il tempo ma tu sei mio quindi io non faccio più il mio volere ma vivo per compiere il tuo vedete fratelli se noi riuscissimo a comprendere questo allora il nostro campo frutterebbe gloriosamente e meravigliosamente io vi ho costituiti e vi ho mandati affinché portiate frutto e il vostro frutto sia permanente oh Signore fa che il tuo gioco sia sempre sulle mie spalle perché solo così in quel giorno potrò sentirmi dire ben fatto mio fedele servitore chiniamo il capo in preghiera grazie a tutti Grazie a tutti.